Via Bellandra, una via che corre parallela via Soncino nel quartiere di Sant'Orso, è una via molto utilizzata dai residenti del nucleo storico del quartiere e che consente di raccordarsi alla nuova Interquartieri verso via Pertini o di arrivare sulla Flaminia più a monte. Questa caratteristica però ne fa soprattutto negli orari di punta di una strada ad alta densità di traffico con una commistione difficile di diversi utenti della strada, pedoni, ciclisti ed auto e gli incroci inoltre a raso delle strade laterali ne accentuano la pericolosità come mostrano inequivocabilmente i segni lasciati a terra dagli incidenti verificatisi praticamente ad ogni incrocio. Per questo i residenti da tempo pur avendo percepito da parte dell'amministrazione la volontà di regolamentare la circolazione nella via con una zona limite 30 vorrebbero una diversa strutturazione del flusso di auto e veicoli a due ruote che spesso e pericolosamente compiono pericolose manovre contro mano esponendo loro stessi e gli automobilisti a rischi elevati di incidenti stradali. Quindi vogliamo sperare che l'assessore Tonelli presto faccia vedere soprattutto ai cittadini residenti in questa via un progetto che risolva il problema in tutto come si deve una volta per tutte ripeto e che questo progetto sia condiviso con i residenti del posto che tutti i giorni tutti i momenti soffrono questa grande difficoltà. Qui ci sono i bambini ci sono genitori che portano i bambini a scuola è una via a doppio senso e quindi quando si incontrano due macchine la via è stretta e si rischia l'incidente tra l'altro è una zona dove ci sono stati diversi incidenti. Diverse sono le possibilità di intervento che vengono ipotizzate da chi abita qui che vanno da un senso unico ad uno ciclo pedonale o a un doppio senso regolamentato. Quotidianamente i ciclisti vanno contro mano quindi ogni volta che un'auto di un residente cerca di entrare in via Bellandra si trova dal lato sbagliato una bicicletta. Oltretutto tutti i ciclisti tendono ad attraversare via Bellandra in direzione di via Pertini per andare praticamente in quella direzione diritto. Quale potrebbe essere una soluzione? La condizione ideale sarebbe un senso unico con una pista ciclo pedonale che garantisca da una parte l'incoluminità dei ciclisti e dei pedoni e dall'altra la possibilità di utilizzare la strada in modo tranquillo e idoneo.